Sicuramente è una cosa molto bella poter fare tutto questo anche per il fair play significa anche che io come allenatore per primis davo e devo continuare a dare esempio a tutti quanti. Per allenatore si guarda spesso la matematica si guardano i risultati ottenuti sicuramente si guarda anche con chi con difficoltà con level anche di competizione ma sicuramente tornando su prima domanda si guarda anche il comportamento del stesso coach che deve essere esempio con il comportamento ma anche cosa è molto importante con i risultati. I giocatori avevano possibilità di giocare tutto l'anno sia per la nazionale che per il club e lì è importante che ottengano risultati con la squadra nazionale con la squadra del club e dopo anche cosa fanno loro personalmente per diventare calcio ancora più popolare per diventare più attrattivo e risultati che loro personalmente ottengono. i fan guardano i risultati della squadra o risultati del giocatore anche con diverse simpatie anche con tanta soggettività ma è molto importante che tutti quanti hanno possibilità di partecipare anche decidere chi per loro sarebbe migliore.